Rosa, come siamo? Ariès, alla casa! Alla casa, Rosa! Che ti beve? La birra? Deve sei là? Eeeh... 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 Geravo per Nendal Ora facciamo il giro a Ari Ari, facciamo il giro, Rosa Ora cominciamo, le zoom La chiesa della matrice La chiesa della matrice La chiesa della matrice Con la vespa Un bar Un bar Quattro è il Caracas 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 Eeeh... 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 Rosa! Che c'è? Ariès! Eeeh... Ciao! Ciao! Eeeh... Eeeh... Che c'è? Che c'è? Grazie a tutti.